era una tranquilla notte di maggio faceva caldo ma nonostante questo dormivo serena perché da alcuni giorni mi sentivo avvolta dalla tranquillità nonostante la frenesia del periodo dormivo quando un odore molto intenso invase la stanza un odore così forte da svegliarmi guardai l'ora erano le 4 e 50 il mio primo pensiero fu di avere un'allucinazione ma l'odore di fiori diveniva sempre più intenso ed io ero completamente sveglia mi guardai intorno per capire ma non vedi nulla iniziai invece a percepire la presenza di qualcuno là alla mia sinistra dall'altra parte del letto tra me e questa presenza c'era il cane che dormiva sul letto con me un silenzio irreale io ero immobile ma non provavo nessuna paura all'improvviso il cane iniziò a scodinzolare sorrideva e scodinzolava profondamente addormentato sentivo una pace immensa avvolgermi e un'ondata di puro amore pervadermi quando il cane smise di codinzolare sospirò e continuò a dormire l'odore sparì insieme alla presenza pochi minuti d'immensità nei quali mi piace pensare di aver incontrato un angelo forse il mio angelo